Dopo la seconda assenza, giustificata da un certificato medico al processo sulle escort portate da Giampaolo Tarantini nelle abitazioni di Berlusconi, il GUP del Tribunale di Bari Ambrogio Marrone ha deciso di rinunciare all'audizione di Lucia Rossini. La escort barese, nota per essersi fotografata assieme a Barbara Montereale in uno dei bagni della residenza dell'allora Premier, era testimone nel processo con rito abbreviato all'avvocato Salvatore Castellaneta, accusato di aver indotto alla prostituzione la stessa Rossini e Grazia Capone, l'Angelina Gioli di Bari, che invece si è presentata e ha parlato nell'udienza precedente. La Rossini, che per quel che risulta dagli atti non avrebbe avuto rapporti sessuali con Berlusconi, aveva partecipato ad una festa la notte precedente a quella che Patrizia D'Addario trascorse con il Cavaliere. Nell'interrogatorio del giugno 2009 disse al PM di essere arrivata a Palazzo Grazioli con altre due ragazze conosciute la sera stessa, Barbara Montereale e Patrizia D'Addario. Una serata tranquilla dopo la quale sarebbe rientrata in hotel senza ricevere altro compenso se non oggettini ricordo. La sentenza per l'avvocato Castellaneta, che ha scelto il rito abbreviato, è prevista per il 30 ottobre. Nella stessa data il giudice deciderà se rinviare a giudizio gli altri sette imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Tra loro Gian Paolo e Claudio Tarantini, Sabina Began, la cosiddetta aperegina delle feste dell'ex premier, le attrici Letizia Filippi e Francesca Lana e gli amici di Tarantini, Pierluigi Faraone e Massimiliano Verdoscia.